ecco il gruppo aiuto 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 dai stronta oh nessuno dice nulla questo è un gruppo aiuto aiuto ecco aiuto micchi dai micchi dai dici qualcosa dai ma pure vaffangulo dai ma pure una parolaccia però forte a lui glielo ho dato però allora a lui è questo vaffangulo a me cosa mi dici? dia vai che mi dici? a fa a fa che? a me che mi dici? cazzo l'hai pagato niente no io non sento che mi dici a me? niente e a Daniele? e oramai mi ha spancurizzato e a Daniele? a bluminchia che cosa dice a bluminchia? a bluminchia? a bluminchia? a bluminchia che cosa dici? a libamba a libamba sei tu a bluminchia? no ma cosa è no? non ti credo e la lunga marcia? Marco Panaro? che è troppo politico è troppo politico? eh va bene il regime della repubblica no a me non mi ha detto niente eh a Serena è carina guarda che tu non calcio se dici una volta cosa no anche lei no è carissima e Elisa? no è carina eh a me non mi ha detto niente a lui sì anche alla fine dai faccio un discorso no 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 sembra brutto? sì insomma un po' non ce l'ha ma io non siete brutti tutti quanti eh basta sto risentendo una cosa a Marco aiuto aiuto non c'è chi l'ha detto comunque hai detto quello vecchio è 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 vecchio